Musica Un buongiorno con Mattino 6, martedì 12 novembre, quest'oggi sui giornali in primo piano ancora la questione dell'ILVA, il ricatto a cui sono sottoposti i tarantini costretti a scegliere tra il lavoro e la salute, ma anche tanta cronaca abruzzese. E dall'Abruzzo partiamo, andiamo subito sul centro, sulla prima pagina di Pescara, traffico nel caos, cittadini infuriati. Pescara, cantiere sull'asse e semafori impazziti in centro, code e disagi. Nel taglio alto, Lega Blitz in Abruzzo del vice di Salvini per mettere ordine dopo il cambio ai vertici della Lega abruzzese. Ancora giunta stop ai bandi per i manager di due ASL, dossier scuole 2 su 3, sono insicure in caso di sisma. A Pescara, ladrinazione con la ruspa al Camposanto e Brioni, celebrata a Pitti Uomo per i suoi 75 anni, ma anche la cronaca. Il giudice, il pugile, poteva uccidere a Francavilla, la procura potrebbe contestare il tentato omicidio. Oggi l'interrogatorio, nella fotonotizia i ragazzi dello SPAZ davanti al comune, no al liceo musicale in via del circuito, la manifestazione appunto del centro di aggregazione giovanile di cui si attende lo sgombero. Chieti, Lanciano e Vasto, palazzo a rischio, crollo, va demolito. Chieti, il comune ordina l'abbattimento dello stabile entro un mese. Nella fotonotizia, autocarrozzeria data le fiamme e trovati inneschi nel capannone. Allentella, muore a 29 anni, investita sulla trignina e a Vasto a Punta Penna, odore acre e occhi irritati. La prima pagina di Teramo, il nuovo ospedale divide Teramo. Il sindaco prova a fare da mediatore tra le posizioni contrastanti. E intanto l'inchiesta di Ancona, Palumbi, niente corruzione, sono una vittima. A Martinsicuro, la storica fonderia Veco rischia ora di fallire. Nella fotonotizia, la campagna Uomini che amano delle donne, scusate, Uomini che odiano delle donne, era un film. Tre società sportive come testimonial, quindi dal Teramo calcio al basket, lo sport contro la violenza di genere. Ma anche Simone disse, ucciso mamma, il delitto di Giulianova. In aula la testimonianza di un detenuto rafforza l'accusa. La prima pagina dell'Aquila e di Avezzano e di Sulmona. Pendolari stangati dall'autovelox. All'Aquila migliaia di persone multate a bussi, pronti ricorsi al prefetto. E dopo le scosse di terremoto degli ultimi giorni, scuole aperte ora a Balsorano. E a Sulmona, Italia Viva, fa il suo ingresso in consiglio comunale. Nella fotonotizia il governatore Marco Marsilio. L'Aquila diventa capitale degli studi di genetica avanzata. L'izì del bimbo conteso e sereno. Ad Avezzano i familiari rompono il silenzio prelevato da scuola senza violenze. Ed eccoci sulla prima pagina che il messaggero dedica alla nostra regione. Maxi truffa all'Inps. 50 gli indagati a chiedi nel mirino della procura indennità di disoccupazione con impieghi fantasma. Ne guai anche un commercialista. Inoltre va le richieste di assistenza previdenziale. All'università esami truccati, VIP assolti, solo il prof condannato in appello. E avremo occasione di approfondire più avanti questa notizia. Il patron del papete per il rilancio dell'Abruzzo. La curiosa vicenda che riguarda il locale più criticato di quest'estate sicuramente. Coltellate al figlio che schive colpi. 16 mesi in cella. La madre sferrò una ventina di fendenti al ragazzo che non voleva accompagnarla. E intanto una donna è morta falciata sulla trignina. A Rancitelli vediamo le porte murate nella fotonotizia. Sfrattata famiglia con tre bambini. Gli abusivi del ferro di cavallo. Titola il messaggero. Questa famiglia occupava un alloggio popolare. Ed eccoci sulla città. La prima pagina del quotidiano della provincia di Teramo. Il nuovo ospedale non è la priorità. CGL e CISL ricordano ai politici i problemi in mobilità passiva. Liste d'attesa e offerta sanitaria. Intanto collegio universitario all'ex ospedaletto. Giardino d'inverno sempre più concreto. Nella fotonotizia uomini chiamano le donne. L'iniziativa che vede coinvolti il diavolo, gli sharks e amicacci testimonial della CPO. Problema Ires per le case e agli sfollati. Il sindaco di Teramo spiega i motivi dei ritardi nell'assegnazione. E ancora l'economia ha nuove regole nella pesca strascico per tutelare l'ambiente nell'Adriatico. E a Roseto ha approvato il progetto del nuovo puntile. Ma adesso usciamo dai confini regionali e andiamo sui quotidiani nazionali. A partire dal Corriere della Sera che titola sull'Ilva. Frenata sulla trattativa slitta l'incontro Conte-Arcelor Mittal. Misiani dialogare ma non ad ogni costo. E scontro sulla nazionalizzazione dell'azienda. L'ipotesi di un piano B del governo per aiutare Taranto. L'azienda ora non è nazionalizzata in mano all'Arcelor Mittal che l'acquistò con il chiaro proposito di delocalizzare. A gente spara un attivista lunedì di sangue a Hong Kong. Giovani danno fuoco a un passante schierato con Pechino. Continuano le grandi proteste contro il governo cinese. E intanto l'Isis rivendica l'attacco in Iraq ai soldati italiani. Gravi le condizioni dei feriti. La Spagna, anche dopo le elezioni, l'esecutivo che verrà. La Spagna è il grande tabù socialisti con i popolari. Le elezioni hanno rimesso, non hanno di certo risolto le confusioni in Spagna. La Repubblica, cari ministri, tutti per Taranto. L'appello del giornale. Il Premier chiede al governo progetti per il dopoilva. Lavoro digitale. Tocca a noi avviare la riconversione ambientale. Arcelor Mittal ha un passo dall'addio. In alternativa vuole uno stabilimento dimezzato. Si va verso uno scontro in tribunale. Una manovra. Mille emendamenti. Arriva il bonus per le nuove TV. Forze speciali. Segreto di Stato. Mentre l'Isis rivendica l'attentato. Intanto il processo Stato-mafia. In questi giorni in corso Berlusconi non depone per dell'utile quelle misteriosi donazioni all'amico. Berlusconi era stato chiamato dalla difesa, dagli avvocati difensori di Dell'Utri a testimoniare. Ha scelto di non rispondere abbandonando il suo storico collaboratore. Intanto gli stranieri schedati in nome dell'odio. Nazismo quotidiano. La grande Milano al binario 21 per linea nasegre. Migliaia sotto la pioggia. Andiamo avanti sul fatto quotidiano. Indiani in fuga. Ecco le prove. Mittal sbaracca l'ilva. La proposta del governo c'è. Marcello resparita. Gli impianti verso lo stop. I minerali ferrosi vengono scaricati sempre meno. Così la fabbrica lavora al 30%. E Renzi ci riprova con lo scudo. Colosso in crisi. I dubbi sull'uomo dei conti a staldi. A rischio il piano di risanimento. E in Emilia Salvini è senza avversari. Ha detta del fatto quotidiano. Bye bye Dell'Utri. Berlusconi fa scena muta in aula. Il testimone in silenzio annunciato. Intanto quota 100 regala 2 miliardi a Conte. L'Inps pronta a rivedere i conti. Vediamo nel taglio basso la capitale. Tre anni e mezzo di raggi. Ritardi, errori e cose fatte. Il bilancio del fatto. Tre militari feriti. L'Isis ha rivendicato l'attacco. L'Italia restiamo in Iraq. Sono tantissimi i soldati all'estero. Mentre si parla raramente delle guerre in cui è coinvolta l'Italia. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Andiamo sul mattino di Napoli. Autonomia è il caso Milano. L'accusa del ministro del Sud Provenzano. In cassa ma non restituisce nulla all'Italia. Il va salta l'incontro con Arcelor. Il premier cerca un'altra cordata. Cinque stelle apre sullo scudo. Intanto migranti. di asse Merkel-Conte serve una visione europea e quel che è emerso dal Vettrice a Roma. Gli operai imprenditori che salvarono la fabbrica ora sbancano negli USA. Il racconto a proposito del Sud che funziona. Ma i militari feriti, lo abbiamo visto, l'Isis rivendica. Il governo insiste. I nostri soldati resteranno. E quanto accade in Iraq. La malattia è l'esempio di Vialli. Aiutare gli altri per aiutare se stessi. La storia dell'ex campione di calcio. Ma anche quello femminile. Io, capitana del Napoli e cameriera, sarei tornata in ritiro della squadra. Così la leader della formazione partenopea. Il calcio femminile non è sponsorizzato come quello maschile. Quindi spesso le giocatrici devono fare un doppio lavoro. TV, la rivoluzione del decoder. Arriva il bonus per cambiarlo. Andiamo avanti sulla verità. Eccoli 007 italiani coinvolti nel Russiagate. Guerra di rivelazioni e misteri nel caso Mifsud. Mifsud, l'avvocato del professore Maltese, scomparso di Chiara Fonti della Link, mi hanno detto che a mettere il mio cliente sull'auto per Matelica è stato il capo dei servizi. Ma il generale smentisce tutto. Non ho mai messo piede in quell'Ateneo. Querelo. Tra una settimana il Copasir sentirà la versione dei nostri responsabili della sicurezza. Intanto allarmi sbagliate. A Roma pure roghi dei neri. Erano bugie. L'editoriale di Maurizio Belpietro. Nella fotonotizia la senatrice a vita Liliana Segre. La commissione Segre è nata su una balla. I 200 insulti al giorno non sono mai esistiti. L'inchiesta della verità. Conte è pronto a scambiare migranti e acciaio. Palazzo Chigi prepara lo scontro legale sul Taranto. Parla la Lezzi. Cinque stelle. Non ha lo scudo neanche se lo chiede il Premier. Che vedrà Mittal. Ma riceve la Merkel e dice sull'Ilva cooperiamo con Berlino. Però in cambio. Intanto la Turchia rilascia i terroristi. L'ISIS rivendica l'attentato contro i nostri soldati. feriti quattro crociati. Miliziani dell'ISIS liberati dai turchi quando erano prigionieri kurdi. E in cambio la Turchia ha ricevuto gli territori in Siria del Nord. Buonafede si sveglia su Bibiano. Parte la nuova indagine sugli affidi. Per la sinistra è vietato discuterne. L'elenco di farmaci e medicamenti che usiamo non servono a nulla. Ricerca sugli effetti dei rimedi più diffusi. Andiamo avanti sul manifesto. Trent'anni di passione dalla Bolognina. La svolta di Occhetto nell'89. La svolta in cui il Partito Comunista si avviò a diventare quel che oggi è il Partito Democratico. Abbandonando le sue posizioni più radicali e socialiste. E intanto la politica estera tutto colpe. In Bolivia anche l'esercito e i sindacati abbandonano il presidente Morales che si rimette per evitare la guerra civile. Un colpo di Stato vecchio stile fa calare il sipario sul primo governo indigeno nella storia del paese. Ma l'odio e le violenze non si fermano. Un Sud America ancora scosso dalle grandi proteste. Non solo in Bolivia. Exilva emendamenti per lo scudo penale. Il governo rischia. Ma vediamo la Paz. Colpo di Stato. Vincono squadracce e oligarchia bianca con l'aiuto degli Stati Uniti. Missioni di guerra. Soldati feriti in Iraq. L'Isis siamo stati noi. E a proposito una guerra profumata di bugie. Quella in Iraq ce lo dice l'ottimo Alberto Negri che sa ciò di cui parla. Ci sono coincidenze drammatiche come l'attentato ai militari italiani feriti a Kirkuk e rivendicato dall'Isis. Che forse non sono solo coincidenze. Ma i nostri strateghi con il Consiglio Supremo di Difesa convocato ieri da Mattarella si svegliano soltanto adesso in retroscena sul manifesto. Spagna è il rompicapo del governo sempre più difficile dopo la seconda votazione in un anno. Intanto Hong Kong scontri e violenze. Due feriti gravi e 260 arresti. In Palestina 15 anni senza Arafat. La crisi senza uscita di Fatah. Mentre continua la colonizzazione ad opera di Israele. Il messaggero cordata per Ilva. Mossa di Conte. Niente incontro con Arcelor. Guardieri apre a CDP. Il premier a Merkel. Copriamo sull'acciaio. Spunta l'ipotesi di tornare ai commissari. Bandiera alla nuova gara. Scudo penale. 5 stelle verso il sì. Decodere Smart TV. Arriva il bonus. Pacefiscare per gli avvisi Bonari. A proposito di manovra. Confindustria e Abi all'attacco. Inchiesta sull'attacco al convoglio italiano. L'ISIS in Iraq siamo stati noi. La difesa non ce ne andiamo. Intanto a Milano non restituisce nulla. Il governo apre il fronte sud. Il ministro al sud provenzano. Questa città attrae ma non ridà al paese. Il ministro degli interni. La morgese. La capitale non resterà sola. Roma. Il piano di sicurezza del Viminale. Ronde delle volanti. Nelle zone a rischio. Hong Kong shock. Rileggiamola questa notizia. La polizia spara. Dimostranti danno fuoco a un cinese. Le proteste che sono scoppiate ormai mesi fa contro la volontà di Hong Kong di estradare al governo di Pechino i contestatori politici. I rifugiati politici. Libero ha un piano salva Ilva. Parla di Salvini. Che pensi mi dice in milanese. Il capo del carroccio. Sulle crisi industriali siamo pronti a dare una mano al governo per tutelare i posti di lavoro. Però niente soldi pubblici e più rispetto per gli imprenditori. Rapporto sull'antisemitismo. 200 insulti al giorno alla segre? No. Decine l'anno. Intanto il declino partì dei PM. Taranto travolta dal catastrofismo ambientalista. L'editoriale di Vittorio Feltri. Questo catastrofismo ambientalista. Intanto ricordiamo che a Taranto c'è una delle più alte percentuali di malati oncologici. Nella fotonotizia il bomber della Juve Cristiano Ronaldo che succede al campione. Ronaldo offende ma la Juve è più signora di lui a proposito del cambio nell'ultima partita. Dà della M a Matteo condannato un prete che dovrà risarcire il Lighe del Leghista. Il cameriere tunisino che parla quattro lingue. C'è straniero e straniero. Questa non so cosa si propone di dimostrare. Il sole 24 ore. Industria in caduta dopo sei anni in crisi. Anche il mito Brescia. Congiuntura tra luglio e settembre. La produzione delle imprese bresciane cala dello 0,9%. E il primo dato negativo del terzo trimestre 2013. Dazi e Brexit frenano l'export. Settembre in flessione per la manifattura italiana. Attività giù dello 0,4%. E mentre vediamo in calo il Fizze Mib. Meno 0,19%. Velocemente l'Arcelor dell'Ilva stoppa le materie prime. Ora la ex Ilva rischia il fermo totale. Il governo prende tempo sul pressing sui 5 Stelle per ripristinare lo scudo fiscale. E' voluto da PD e Lega. Intanto la taranto inglese British Steel salvata dai cinesi di Hing Yi con 81 milioni di euro. Merkel apre all'unione bancaria. Va fatta la stabilizzazione. Va fatta per stabilizzare l'euro. Il nuovo allarme suona per le banche in Germania. Le borse e la corsa all'oro del business dei dati. Andiamo avanti sulla stampa. Mittal apre a un partner pubblico. Il gruppo franco-indiano disposto a ridurre gli esuberi a 3.000 diminuendo la produzione dell'acciaio. La maggioranza litiga sullo scudo. E Renzi dice sì all'idea di una costituente proposta da Giorgetti, che è il vice di Salvini. Il ceto medio non riesce a crescere. Lega e finanziere dei 49 milioni gli affari con l'ex deputato Arata. Nella fotonotizia la questione irachena. L'Isis rivendica l'attentato ai soldati italiani. Intanto la politica estera Hong Kong è bruciato vivo perché pro-Pechino. La polizia spara sugli studenti. E guerriglia da tantissime settimane. Casa Bianca, l'America divisa a un anno dal doppio referendum e anche le storie. Torino, quando volare, diventa una medicina per i piccoli aviatori. Il tempo, gli ascensori d'oro della Raggi. La città metropolitana spende quasi 400 mila euro per interventi straordinari nella sede dell'Euro. Un mare di soldi per la manutenzione degli elevatori in un edificio che era praticamente vuoto. La vignetta di Oscio, che attendavamo con ansia, centro pagina. Comincia a pensare a un posto dove poter andare, ma io quasi tornerei in Umbria. Alla fine siamo stati bene. Sembrerebbe dire Di Maio a Conte l'ironia sulla stampa. Conte vuole andare in conclave, in ritiro con i leader di maggioranza. Intanto Roma naufragata. Oggi si fa il bis. Code infinite sulla puntita e lungomare allagato. 109 euro a testa per la Plastic Tax. Altro che mini prelievo. Confindustria calcola il costo per le famiglie. Processo Ter. Rubi. Vacanza da 50 mila euro. Si torna alla Rubacuori. In aula la sfilza di testimoni sulle sue spese pazze. Andiamo avanti sul secolo di Francesco Storace. Ecco quelli di prima con il celebre streaming di Di Maio online. Le faffaronate di Di Maio sull'Ilva, continue balle di governo, devono andarsene. Ricordiamo infatti che in campagna elettorale quella dell'Ilva, la chiusura dell'Ilva, era sicuramente uno dei cavalli di battaglia più importanti di quello che poi proprio per questo motivo fu fatto ministro del lavoro Di Maio. In primo piano l'inganno dei nuovi Isa. Meloni, Gabanelli ci segue. Isis rivendica attentato e farnetica sui crociati. Exilva, governo nel caos per emendamento di Renzi. Andiamo avanti su il secolo XIX. Svolta sull'exilva, a meno i suberi, si entra in campo un socio pubblico. Il leghista Giorgetti propone un patto sulle riforme. Si, di PD e Renzi, mette al dispone disponibile a ridurre i tagli a 3.000 unità, previsto però il calo della produzione in acciaio. La fotonotizia, migliaia di liguri in cora per presentarsi alle aziende. Al Carer Day si apre la corsa a 3.700 posti di lavoro. Intanto l'Iraq, la firma dell'Isis sull'attentato agli italiani, c'è la rivendicazione. Operato d'urgenza a uno degli incursori feriti. Falsi report sui viadotti. Sospesi 10 dipendenti della SPEA. Decisione del Tribunale dell'esame. Chiuse alcune corsie su quattro ponti. L'avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica. Terrore di ritorno. Il Daesh rivendica l'attacco ai soldati italiani e la serie di attentati in Siria. Rafi e Dimitra uccidono un prete armeno. Suo padre è ferito un diacono. Ovviamente l'attenzione dell'avvenire sul clero. Gravemente feriti i nostri cinque militari. Il Consiglio di difesa garantire la nostra presenza. Lì è un terrore di ritorno perché l'Isis era stato sconfitto dai miliziani curdi. E adesso gli si è ridato fiato. Da Gualtieri a Santoro no a nazionalizzare l'ex Silva. Cinque stelle unito contro lo scudo. L'arcivescovo di Taranto serve una regia unica. Merkel intesa con la Libia ma nel rispetto dei diritti. Si acconte pure sull'acciaio. Morales si arrende ma in Bolivia è caos di missioni a catena e vuoto di potere. E in Spagna tutto da rifare per il governo Sanchez che non raggiunge una maggioranza assoluta. Caso Bibiano, Tribunale di Bologna, arrivano gli ispettori. Andiamo ora allo sport a partire dalla Gazzetta che ovviamente titola sulla questione di Ronaldo che quando nell'ultima partita di Serie A è stato sostituito da mister Sarri non l'ha presa benissimo. Il Cristiano pentito, post distensivo di Cristiano Ronaldo. I tifosi sono con Sarri. Ronaldo sui social spegne la polemica. Una vittoria importante. La Juventus non lo multerà ma al ritorno dal Portogallo si aspetta un chiarimento nello spogliatoio. Dopo la sostituzione contro il Milan, prove di disgelo tra il fuoriclasse e il suo allenatore. Nel taglio alto il ciclismo, Giro d'Italia, Nibalicella, Trek Segrafredo, primo obiettivo. La Corsa Rosa. Il team manager poi farà Olimpiade. Mondiale verso il No al Tour. Vialli, Mancini, fratelli d'Italia. Che bella coppia insieme dopo 27 anni. Il mio capo delegazione. Nuove notti magiche per restare giovani. Il CT ci crede. Voglio una nazionale alla garrincia. Imprevedibile. Intanto l'Inter Attack in Europa è l'unica a segnare sempre. Il tesoro Gabigol prende il mitico Zico. E l'altra milanese dal Ninja a Piatec. Campionato top e flop. Analisi a un terzo della Serie A. Il Napoli ladri in casa. Alan teme per la famiglia. E ora pensa all'addio. Clima teso nel capoluogo. Campano. Il corriere dello sport. Io sono io. Caso Ronaldo. Niente scuse alla Juve. Un breve post che ignora la sfuriata. Poi il volo in Portogallo. Per il club va bene così. Nessuna multa. Ritorsioni sul Napoli. La procura apre un fascicolo sull'irruzione in Casallan. E sui danneggiamenti all'auto della moglie di Zielinski. Che potrebbero essere avvertimenti ai calciatori. Florenzi divide. CT e Fonseca. Mancini lo ha riportato in nazionale. Per me è un giocatore importante. Il romanista per me è un'opzione. Vialli, Cuarazzurro. Così aiuterò i giovani. Tutto sport che ovviamente apre su questa questione Sarri e Ronaldo. Sarri esclusivo la verità. Vi svegliamo cosa ha detto Ronaldo al momento della sostituzione nel match con il Milan. Nessuna multa dalla Juve che innanzia solo per il ginocchio e per il doppio impegno con la sua nazionale. Nella foto vi mostriamo la piccola fasciatura alla gamba destra. Lo vedete qui nella gamba di Ronaldo. La Serie A più bella grazie al Cagliari di Maran che sta facendo un'ottima parte di campionato. Berrettini c'è Federer. Oggi un altro match terribile per Matteo nel tennis. Ferrari due gran premi già nel 2020. Leclerc potrebbe usare con penalità il nuovo motore. Italdonne per la sesta. Castel di Sangro contro la Malta. Caccia alla vittoria di fila numero 6. Piace già le big. Ci sta dalla Serie D al Brescia e all'Azzurro. Intanto l'appello del Toro Club Pompieri Granata. Aiutiamo le famiglie delle vittime di Quarniento. Per la prima parte della nostra rassegna stampa è tutto. Adesso le previsioni meteo e subito dopo rimanete con noi perché andremo a sfogliare pagina per pagina i quotidiani abruzzesi. A tra poco. Di nuovo in studio con Mattino 6, martedì 12 novembre. Andiamo ora a approfondire la cronaca abruzzese andando a sfogliare i quotidiani locali a partire dal centro. Che titola sulla questione delle scuole. Due su tre non sono in sicurezza. I sindacati lanciano l'allarme. In 10 anni perse 1.400 unità di personale. Sulla normativa antisismica il 65% degli istituti è fuori legge. Mentre mancano ancora l'appello 179 profe, oltre 280 bidelli. Il 65% abbiamo letto degli istituti è fuori legge. Non è a norma sismica. In questi giorni tra l'altro la terra è tornata a tremare in Val Roveto tra Lazio e Labruzzo. E allora andiamo ad approfondire questa importante questione nel nostro servizio. Tra le criticità della scuola oggi nella nostra regione c'è quello della scarsità, mancanza di personale tecnico dell'ATA. Purtroppo abbiamo un'organizzazione scolastica che dobbiamo dire soffre di schizofrenia. Vuole una scuola autonoma che abbia un ampliamento di orario, di servizi, che sia piena di progetti, di attività e così via. Però allo stesso tempo riduce notevolmente il personale ATA, in particolare il personale amministrativo e i collaboratori scolastici. Ed in questo senso il personale amministrativo è da quasi 20 anni gravato sempre più di ulteriori compiti. Tra l'altro con scarsa formazione e nessun riconoscimento né professionale né economico. Edilizia scolastica nella nostra regione, qual è la situazione oggi? Dai dati nostri in possesso, dalla UIL, in una classifica stilata dal rapporto di lega ambiente sui capoluoghi di provincia per quanto riguarda la sicurezza delle strutture scolastiche, abbiamo Chieti al 36 posto, Teramo al 70 e L'Aquila al 38. La soluzione innanzitutto è rendersi conto che noi abbiamo un contesto particolare, quindi quando si vanno a fissa degli organici i criteri non possono essere quelli generali e nazionali. Abbiamo delle emergenze, emergenza ATA, 1.400 posti in meno in 10 anni, emergenza precari, 2.000 precari affollano le scuole abruzzesi. Abbiamo la necessità di un intervento immediato, per esempio se pensiamo che solo sul sostegno ci sono 1.500 precari, ci rendiamo conto che specie in quel settore per esempio è necessario partire da subito con corsi di specializzazioni e con stabilizzazioni. Abbiamo la necessità che si facciano i concorsi in questo paese perché portare la scuola con delle percentuali di circa il 20% di precari avanti è un'offesa sia per questi lavoratori che da anni stanno svolgendo il loro lavoro, sia per la qualità dell'offerta formativa perché è una scuola precaria, è una scuola che non riesce a dare quello che dovrebbe, ovvero sia il successo formativo. Oltre che all'ufficio scolastico regionale che in realtà è una emanazione del ministero, noi vorremmo sensibilizzare la politica abruzzese per la verità perché è da più anni che stiamo cercando di far capire che così com'è la scuola abruzzese non va bene e siccome ci sono questioni strutturali, organizzative e sociali che vanno gestite politicamente, c'è poco da discutere, allora se ne devono far carico, se ne devono far carico, chiunque governa questa regione si deve far carico di problemi che stiamo denunciando oggi qui ma l'abbiamo fatto anche prima con il precedente governo regionale, non è che abbiamo risparmiato questo o quel tipo di governo. Stiamo ancora attendendo però che ci sia qualcuno che ascolti quello che diciamo. Continuiamo la nostra rassegna stampa, ora la politica arriva a Casanova e la Lega si ricompatta. In Abruzzo il vice di Salvini per il Sud presenta la legge sul benessere, tra un mese rivoluzione nel partito in regione. Dall'altro lato invece il PD di Chiara Guerra, Aslotte, gioco d'azzardo, Paolucci, il consigliere regionale, ex assessore. L'Abruzzo ha il primato in Italia, ecco la nostra legge che coinvolge Asl, Comuni e Scuola. Dall'altro intanto il Fratelli d'Italia rilancia tutte le dipendenze, non solo quella dal gioco d'azzardo. Tessa, Quaglieri, Bellucci e Sigismondi bandiscono anche i fumatori. E allora questa proposta del centro-sinistra contro il gioco d'azzardo fatta in regione la scopriamo meglio nel nostro servizio. Disegno di legge sul gioco d'azzardo patologico, è stata presentata questa proposta nei giorni scorsi. Il perché di questa iniziativa? Perché è un grande male che colpisce un gran numero di persone. Solo in Abruzzo 17.000 persone sono colpite da questa gravissima dipendenza, da gioco appunto, che aggredisce la questione finanziaria di tante famiglie, però va oltre perché compromette l'equilibrio anche emotivo e dei rapporti familiari. E pertanto è una grave patologia che va affrontata. Negli anni addietro abbiamo con il piano della prevenzione, quando eravamo al governo regionale, per la prima volta messo all'agenda pubblica anche delle iniziative sulla prevenzione, questo grande tema. La legge che presenta il centro-sinistra oggi è rilevante in quanto è una legge di sistema. Per capirci cosa c'era prima e cosa ci sarà se venisse approvata questa norma. Prima vi era soltanto l'autorizzazione per i cosiddetti luoghi sensibili, cioè la distanza alla quale le sale da gioco o le varie tra virgolette macchine da gioco dovevano essere o potevano essere installate. Oggi, oltre a questo, noi andiamo a disciplinare tutta una serie di iniziative che vedono coinvolti regione, asle, comuni, associazioni e persino gli esercenti. E chiediamo alla Giunta di elaborare annualmente un piano di iniziative sulla prevenzione, sull'informazione, la divulgazione e poi, laddove c'è il problema, aggredendolo con le reti cliniche, il problema cioè già di chi risulta chiaramente affetto, questo piano di azione annuale, cioè si ripete ogni anno e il Consiglio regionale convoca un'apposita commissione, prima per approvare la proposta di Giunta e poi per valutarla una volta monitorati gli effetti e le iniziative. Oltre a questo, noi mettiamo in campo altri due momenti di particolare comunicazione e divulgazione. Il primo, diamo la possibilità agli esercenti e agli esercizi che vogliono rifiutarsi di installare le macchine da gioco il cosiddetto logo esercizio no slot. E secondo, ogni anno una giornata apposita di divulgazione delle iniziative fatte, dei risultati ottenuti e di quello che si potrà mettere ulteriormente in campo. Ecco perché è una legge vera e propria di sistema che aggredisce il problema e noi appunto auspichiamo che il Governo regionale possa recepire questa proposta. E ora la cronaca ci porta a Francavilla. Il giudice e i pugni del pugile potevano essere mortali. Il ristoratore picchiato, il GIP, la procura valuti per Mangifesta, il tentato omicidio. E ora Mangifesta l'arrestato quest'oggi parlerà in tribunale. Intanto la questione degli esami truccati all'università, tutti assolti, scagionati. L'ex sindaco di Manfredonia, un imprenditore, l'ex compagna del prof. Panzone. Panzone che è accusato appunto di aver esercitato pressioni sui suoi colleghi per far appunto passare gli esami senza alcuna difficoltà. L'ex sindaco di Manfredonia e questo imprenditore. Per questo motivo il professor Panzone è stato condannato, quindi gli si è riconosciuto di essere corrotto, ma ora i presunti corruttori sono stati assolti. Un caso bizzarro, abbiamo un corrotto senza un corruttore. Allora andiamo ad approfondire questo caso giudiziario nel nostro servizio. Tutti assolti, tre imputati a processo per i presunti esami truccati dell'università d'annunzio. Il tribunale di Pescara ha prosciolto i tre, con rito ordinario, dalle accuse di corruzione poiché il fatto non sussiste. Assolto quindi l'ex sindaco di Manfredonia in provincia di Foggia, Angelo Riccardi, per cui il PM aveva chiesto quattro anni per i reati di falso e peculato. Assolti anche l'imprenditore foggiano Michele Dalba e Joel Toitu, l'ex compagna del professor Luigi Panzone. Panzone invece, che per la stessa vicenda è stato condannato con rito immediato nel 2016, in appello ha visto ridursi la pena a tre anni e undici mesi. Secondo l'accusa, il docente universitario avrebbe consentito a Riccardi e Dalba, iscritti alla facoltà di scienze manageriali, di superare gli esami con il minimo sforzo, non sostenendoli affatto, esercitando pressioni sui colleghi in cambio di denaro o della promessa di denaro. Riccardi inoltre era accusato anche di peculato per essersi recato a Pescara per sostenere gli esami con l'auto di servizio del comune di Manfredonia. Dopo la lettura della sentenza, l'ex sindaco del comune pugliese ha tirato un sospiro di sollievo. Sono una persona pulita, è arrivata questa soluzione che però non mi ripaga di tutto quanto è accaduto, ha dichiarato Riccardi. Evidentemente Panzone non si è difeso bene, ha poi aggiunto l'ex primo cittadino, in riferimento al fatto che il professore, per la stessa vicenda, è stato invece condannato. Emerge infatti una contraddizione da queste sentenze. Il professor Panzone è stato condannato, sebbene non in maniera definitiva. Per l'organo giudiziario esiste quindi un corrotto, ma non un corruttore. Panzone insomma è stato condannato per un fatto che, secondo il tribunale di Pescara, non sussiste. E adesso andiamo a Pescara con la nostra rassegna stampa. Liceo musicale in via del circuito, la protesta non ferma il trasloco, contestazioni dei giovani in comune contro la cessione dell'edificio dello Spazza, al Misticoni Bellisario. Centro-sinistra e 5 Stelle attaccano la maggioranza, primo sì anche al progetto per l'Ateneo. Nell'ex Cofa la protesta dei giovani da cui la scorsa amministrazione aveva concesso lo spazio, la vedete davanti al comune nelle fotografie. Andiamo avanti, il caos per un cantiere sull'asse attrezzato, code e rallentamenti sulla rampa di uscita delle torri Camuzzi. Guerra agli abusivi, arrancitelli sfrattate altre due famiglie, i carabinieri hanno scoperto anche il furto di energia elettrica, murate le porte, ma gli sgomberati chiedono il dissequestro. Intanto chissà questi nuclei familiari sgomberati dove poi sono andati a vivere. Insomma, l'adrinazione al cimitero De Colli, magazzino sfondato con la rusba, rubata a tanica di gasolio e poi un'auto. A Montesilvano, telecamere e vigilantes, così risolgono i gemelli. Il compresso comprende anche nove palazzi ed estate conta fino a 2000 inquilini. L'amministratore, dopo anni di degrado, siamo tornati alla normalità di un tempo, ovvero quella con le telecamere e le ronde. Andiamo avanti su Chieti, travolta e uccisa a 29 anni sulla Trignina, donna investita mentre scende da un furgone in panne, falciata da una Fiat 600 in transito, strada bloccata per ore. In giusta detenzione, chiesti 150 mila euro per un incarcerato a Vasto che è stato poi assolto. Si ribalta col trattore, muore schiacciato. Casalbordino, incidente all'alba, la vittima ha 53 anni, il sindaco di Villa Alfonsina. Li volevamo bene, li ricordiamo, quelli nei campi sono i lavori dove ci si fa male di più. A Teramo, nuovo ospedale, città spaccata, il sindaco prova a mediare i comitati di quartiere, i sindacati e 5 Stelle vogliono il riuso del Mazzini. Medici e comune dicono no. D'Alberto propone un tavolo all'interno del comitato ristretto in cui arrivare a una proposta unitaria. In un tanto i numeri della ASL, le spine nel fianco sono mobilità passiva e carenza di personale. Andiamo all'Aquila, buttafuoco. All'Aquila la cultura è lanciatissima. Qui si costruisce l'avvenire. Il nuovo presidente del TSA. In città esiste un pubblico delle arti che esigente e merita una qualità sempre più alta, fascismo e antifascismo, sorpassati secondo il nuovo direttore del Teatro Stabile d'Abruzzo. A questo proposito andiamo avanti. A Sulmona e al Consiglio Comunale è arrivato il gruppo di Italia Viva, ma prima di leggere lo sport, andiamo rapidamente sul messaggero. La nuova rete sanitaria, quattro super ospedali e Sulmona promossa. Filtrano le volontà della regione in un documento che senza tabelle. Chiesto il rinvio per la riforma radicale. Al momento solo operazioni a costo zero. Abruzzo con la febbre del gioco d'azzardo. Democratici e fratelli d'Italia. Leggi contro le ludopatie. L'abbiamo visto nel nostro servizio. Oltre 17 mila persone devono combattere con la dipendenza dalle scommesse. La somma pro capite è di 2.300 euro l'anno. Dipendenza da cui chi detiene questo mercato, anche tramite le tasse allo Stato, guadagna tantissimo. Primo passo per l'Ateneo all'Excofa. Passa in Consiglio il sub emendamento della maggioranza di centrodestra, che è precisa la strategia dell'operazione trasloco. Opposizione all'attacco. Per sclocco il programma del sindaco diceva altro. Masci, ho parlato di alta formazione. E Politecnico. Caso Spaz, un conto da 100 mila euro. La provincia chiede un anticipo per la trasformazione del centro giovanile in sede del MIBE. Protestano gli studenti. Anche un sit-in per Liliana Segre, anche Bussi e per la cittadinanza. Anche a proposito della polemica di questi giorni. Andiamo avanti. Il volto bello di Pescara si è rispecchiato nel FLA. Presenze oltre quota a 30 mila. Anche tanti ragazzi. L'organizzatore d'Aquino archiva un'edizione super e pensa al 2020. Intanto ricordiamo che il grande nome ospite di questa edizione doveva essere Roberto Maroni a presentare il suo libro. Che ha però dovuto annullare l'incontro al FLA. L'invito perché è stato condannato. L'Aquila, a cassette gettate per strada. Chiuso fruttivendo l'Egizio. Dal comune arriva la stangata all'esercizio. Imposto uno stop di 90 giorni. DNA in città e il centro più grande d'Italia. L'Aquila inaugurato Dante Raps all'interno del Tecnopolo. Grazie al Genova cure personalizzate e prevenzione mirata. Stava scappando la pagina. Andiamo avanti. A Chieti truffa di finti disoccupati. All'Inps decine di indagati. E in 50 ora rischiano il processo. Che involte i tre amministratori di società. Un commercialista inviava le richieste per naspi e aspi. Erogati 36 mila euro. Tentò di pugnalare il figlio. 16 mesi di pena. La donna ieri mattina ha patteggiato la pena dal GUP. Il ragazzo che era sul letto riuscì a schivare i fendenti. La vittima si era rifiutata di fare una passeggiata. Ora vive con i nonni in Basilicata. E' assegnata una casa famiglia a Teramo. Sanità anche Teramo vuole l'ospedale di secondo livello. Il policlinico strategico dell'Aquila non è sufficiente a tutto il territorio. Di Buonaventura la nostra ASL risparmia. Il resto della regione spende questi soldi. Il campanilismo. E ora prima dello sport. La città, il quotidiano di Teramo. Esami universitari truccati. Tre assoluzioni a finire a processo per il caso dell'adannunzio. Anche l'ex sindaco di Manfredonia, un imprenditore foggiano. Intanto a Pescara nuova sede per il sindacato dei giornalisti abruzzesi. Disegno di legge per far diventare l'Abruzzo la regione del benessere. Presentata ieri la proposta per valorizzare il territorio in materia ambientale, sanitaria, turistica, educativa e sociale. E un nuovo ospedale non è una priorità. I sindacati ricordano ovviamente quello di Teramo. I sindacati ricordano alla politica le liste d'attesa, la mobilità passiva, la definizione della qualità e dell'offerta sanitaria. In campo gli uomini chiamano le donne, l'abbiamo visto. Teramo Calcio, Roseto Schaxe, Amicacci Giulianova, testimonial della campagna della Commissione Pari Opportunità. Un'iniziativa di solidarietà che arriva dal mondo dello sport. E allora accogliamo la palla al balzo che ora ci vuole proprio per parlare di sport. Andiamo con la Serie B sul centro. Il Pescara vola con la cooperativa del gol. Dieci marcatori diversi come il Benevento per il miglior attacco del campionato. La svolta con il passaggio al 4-3-2-1. Sembra che Zauri abbia finalmente trovato il modulo ad hoc. E quindi come vediamo da questa tabella il Pescara è il miglior attacco del campionato. Attraverso questo modulo ad albero di Natale che sta esaltando le caratteristiche della squadra che segna valanga nonostante l'assenza di un bomber di razza. Causa infortuni. In mattinata gli esami per Busellato da valutare i tempi di recupero del centrocampista che era assente anche a Empoli. Serie C trittico della verità per misurare la forza del Teramo. Ternana, Bari e Regina dopo il passo falso con il Picerno. Continua il mal di trasferta sotto accuso alla fase difensiva. Roseto, Baie ci crede, voglio fare i play-off. Baschetta 2, il camerunense protagonista della vittoria a Montegranaro. Ora sfruttiamo il fattore campo. Serie B, Raiola verso Iesi. Marchesani applaude l'ESA Chieti. Il presidente dei Tiatini esulta dopo la vittoria a Teramo. Finalmente abbiamo visto un grande Rezzano, ma mi è piaciuta tutta la squadra. Domani in campo la C, Silver. Serie D, Chieti avanti con Grandoni. Notaresco, Cammino da C. I neroverdi confermano il tecnico che si giocherà tutto domenica col Vasto Girardi. I rosso-blu festeggiano la decima sinfonia. Nessuno, meglio, dalla A ai dilettanti. Lanciano, paghiamo le assenze. Eccellenza, Frantani a meno 5 dalla vetta. De Vincentis, tanti infortuni. Ma ci rialzeremo e in promozione domani il turno infrasettimanale. L'Aquila col dubbio. De Marco, i rosso-blu sfideranno il Miano. E qui vedete le formazioni. Andiamo avanti i protagonisti del calcio giovanile. Lo vediamo questa doppia pagina. Bomberdangelo trascina il Colonia. Il penne rifila 5 reti all'Arabona. Intanto, a proposito di calcio giovanile, Antonacci, Morelli e Giovannelli sono le stelle a suon di marcature. Leggiamo anche la Virtus Ortona. Il vasto abbraccetto. Brillano Sbaraglia, Arrametta e Tolomello. Il calcio femminile. Vediamolo da vicino. L'Italia a Castellisangro cerca gol e spettacolo. Alle 14.15 sui canali statali sfida contro Malta valida per le qualificazioni agli europei. Nel gruppo anche Sabatino e Tucci Ricimini. Alle 2.15. Purtroppo dovrete iniziare a vedere la partita con ritardo perché alle 14 c'è il TG6. Armonia, tre ore ori per le allieve gold. A proposito di ginnastica ritmica. Calcio a cinque donne. Veneziale stella della quinta giornata della Serie C. Ma leggiamo lo sport anche sul messaggero. Pescara è ora il mese di fuoco dopo la nazionale fino al 21 di dicembre. In calendario previste cinque gare fondamentali. Zauri ritrova Crecco. Un incubo stare fuori. Tre mesi. Zona promozione. Noi comunque ci proveremo dopo che è stato ripreso mister Zauri dal presidente Sebastiani perché aveva detto che la squadra era una squadra da salvezza. Dopo Ibra impazza il tweet del Delfino su Cristiano Ronaldo. Un'ironia quella social che sta diventando un po' ripetitiva. Il calcio femminile. Le sorelle d'Italia a Castel di Sangro. Oggi le azzurre contro Malta nella gara valida per Euro 2021. Fortamente voluta da Gravina. La Serie C. Teramo contro le Big decinerà il Bonolis. Quattro delle prossime sei partite sono in casa. Cristini col Picerno serviva un episodio a favore. Invece lo abbiamo avuto contro. Il grande ex Caidi ringrazia via social i tifosi. Tutta la curva per i tifosi. Ternana. Ma vediamo anche la Serie D. Avezzano e i giocatori hanno rispettato il club. Il Chieti Grandoni confermato dopo il vertice societario. A Notaresco. Il Notaresco è da record. Grazie anche al bomber Sansovini. Stupisce pure me il presidente della squadra Rivelazione. A giugno ho raccolto solo macerie. Ci siamo rimboccati le maniche. Adesso non resta che gioire con il gruppo. Si eco al comando ma non festeggia. Marx ancora KO a proposito di pallavola. L'uscita dell'opposto ha provocato un calo. in due set. E il basket Roseto. Servatori NBA. Maglietta antiviolenza. E anche i motori. L'orispinelli Boggi da oggi. Impegnato nei test. In Francia. A proposito del pilota originario di Montesilvano. Classe se non erro 1994. Andiamo sulla città. Il quotidiano di Teramo. Leggiamo anche la città. Come interpreta lo sport. Ovviamente grande attenzione per la serie C. Per il Teramo. Teramo è uno stop senza alibi. Titola Jacopo Forcella. Sconfitta fisiologica. Dopo una striscia importante. Che però evidenzia difficoltà. Nella fase di non possesso. Adesso ci sono le prove. Verità. Notaresco in serie D. Le vittorie sono 10. Vittoria è primato in campionato. Battuto 2 a 1 il Matelica di Colavitto. Il Rosso Blu sfruttano lo stop della Re Canatese di sabato. Per il sorpasso. Il basket. Cosa lascia la vittoria di Roseto al Palas Avelli? D'Arcangeli una sconfitta sarebbe stata drammatica. Era una settimana per lavorare senza frenesia. Il Palascara è stata bula. Adriatica presteramo perde il derby con il Chieti. Sempre a proposito di basket. E ancora l'intervista a Giallorossa. Sarebbe un sogno allenare il mio fratello in C1. Mister Federico Del Grosso si racconta alla città dall'esordio ai suoi maestri fino alla decisione di allenare. Stiamo parlando ovviamente dell'allenatore del Giulianova. Per oggi la rassegna stampa finisce qui per questo martedì 19 novembre. Io vi ricordo che l'informazione torna alle ore 14 con il TG6. Vi ringrazio per essere stati con noi. Vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti.